Fino a qua è tutto normalissimo, fino a un'ora e trenta di film è tutto ok, da quando Shinji sale sull'Evangelion è finita proprio. È finita, entra in berserk, allora le cose che sono successe è che entra in berserk, riesce a risvegliare del tutto l'Evangelion in qualche modo, e essendosi risvegliato allo 01, crea il third impact. Cioè io non ho proprio nessun problema fino a un'ora e trentacinque, il film mi è chiarissimo, proprio tranquillissimo da seguire. Poi, bordello. Ma dove sta il tizio nuovo anche ora che ci penso? Cioè fanno vedere il tizio nuovo che dice adesso è il mio momento, era lo stesso che avevamo visto alla fine dello scorso film, adesso tocca a te, sì ora è il mio momento, e non arriva, non fa niente. Quando cazzo arriverà, mi pare Nagisa si chiama, approfondiscono abbastanza bene i personaggi e ampliano i loro rapporti tra quelli secondari. Ma mi piace di più, cioè dal punto di vista dei personaggi mi piace di più Story Build. Cioè la serie principale penso che fosse un po' più criptica, un po' meno, come dire, facile anche da capire a livello di personaggi, di quello che volevano fare, di quello che pensavano. Comunque la scena finale, regà, bellissima, a livello di colonne sonore, a livello di combattimento, a livello di, giusto un po' incasinata. Non è che si capisce troppo di quello che succede a mente proprio, come dire, a caldo, però gestita benissimo proprio. Regà, ma questa è una sorta di, come dire, una sorta di loop, cioè loro stanno vivendo una sorta di loop, che queste cose si stanno ripetendo, questi eventi si stanno ripetendo, ma ogni volta falliscono, e quindi vengono ripetuti di nuovo fino a quando non ci riescono, una cosa del genere. Perché se mi dite che, ad esempio, il mare all'inizio, teoricamente non ci dovrebbe essere, e, cioè, mi avevi detto più che altro che i film sono collegati, è già questo. E nella serie originale il mare rosso era normale, qua invece è rosso, perché a quanto pare è rimasto, in qualche modo, dalla serie di prima. Oltre a questo poi c'è sto tizio che adesso dice, questa volta riuscirò a renderti felice. Sì, mi sembra abbastanza palese. Poi vedrai tutte le risposte, no, vabbè, ma mi sembrava abbastanza palese. È confermato pure dall'autore che è un sequel. Sì, è un... c'è nel senso, a me, ripeto, l'unica teoria adesso che mi vorrebbe da farvi è che è una sorta di loop. Cioè, loro stanno ripetendo le stesse cose, ma fino a quando non riusciranno ad aggiungere al finale di non so chi, sinceramente. Cioè, o magari sono una sorta di mondi paralleli, di universi paralleli, tutti questi, in cui avvengono cose... No, non può essere che sono universi paralleli, a me sembra semplicemente un loop. Però... cioè, in base a cosa si crea questo loop? Perché avviene il third impact, forse. Ogni volta che avviene il third impact si resetta tutto e riniziano da capo. E quindi adesso stanno cercando di evitare che succeda. Nel 3.0 più 1.0 danno tutte le risposte. Grazie al cazzo, però, stavo cercando, come dire, di dare delle mie possibili teorie in merito. Comunque non lo so, regà. Io della serie principale, sarò sincero, non mi ricordo tutta la questione con Lilith, con gli angeli. Mi ricordo solamente nel finale della serie originale che ci sta Ray gigantesca, che, non lo so, ingloba la terra, cose strane. Quindi, sinceramente, non mi ricordo. Cioè, dovrei re-watcharmi di nuovo il film di End of Evangelion e poi forse riuscirei a darvi delle informazioni un po' più precise, ma attualmente non so proprio... come dire... non so dirvi altro. Secondo me è un loop, ma i motivi, regà, non lo so. Non so in base a cosa può succedere per creare questo loop. E nel live action spiegano tutto. Qual è il live action? Il prossimo 3.0 domenica? Sì, prossima domenica, regà, vedremo l'ultimo film... il penultimo film. E poi l'ultimo film uscirà il 12, il 13, il 14 settembre su... al cinema. Me lo andrò a vedere al cinema, infatti. E poi ne parleremo il giorno dopo, probabilmente. Però, sì, regà, questo... questo è stato il film. Molto bello, molto bello. Quindi, penso che già possiamo salire a un 9. Possiamo tranquillamente salire a un 9. Avrei voluto dare di più, ma non è che... c'è il finale... Cioè, è stato molto bello, è assolutamente. Però penso appunto che 9 sia il voto più onesto. Cioè, i prossimi probabilmente saranno pure meglio. Anche se molti di voi hanno detto... molti. Alcuni di voi hanno detto che questo qua è il migliore di tutti i film dei rebuild. Per carità, potrebbe esserlo, assolutamente. Perché comunque, ripeto, è un film molto interessante. Fa 9,3. Me lo segno. Cioè, è un film molto interessante perché approfondisce una marea i personaggi pure. Tantissimo proprio. Veramente tantissimo. Quindi, voi gli avete dato 8,33... Cioè, scusatemi. 9,33. Io gli confermo il 9. E... 9, sì. Stavo dicendo. Nella prima parte, una marea di approfondimenti... Più che altro cose tranquille. A parte nuovi personaggi o comunque... L'approfondimento dei... Dei rapporti che hanno tra di loro. Però comunque è bello. Fanno anche vedere tutti i problemi. Le insicurezze. Asuka, Shinji, Rei. Le approfondiamo tutti meglio. Quindi comunque la prima parte è molto importante. Però finisce là. Non è poi chissà quanto bella. Da... Dalla prima ora in poi. Da un'ora e dieci in poi. Quando Shinji inizia da... Viene costretto a quasi uccidere Asuka. Diventa stupendo. Questa ultima parte, ripeto. Questa... Non tanto mezz'ora. Proprio questi... La seconda metà del film. Gli ultimi 40-50 minuti sono proprio belli. Proprio belli, belli, belli. Ho sentito da molti che il 3.3 è il peggiore. Beh, quello ovviamente non lo so. Non lo so proprio. Il 3 è il migliore. Il prossimo. Anche se non si capisce un tubo. Lo sai che mi ha dato proprio questa impressione? Cioè dopo aver visto il finale di questo qua. E dopo aver visto le anticipazioni del prossimo. Ho la netta sensazione che il prossimo sarà molto più incasinato di questo. Cioè questo qua è stato incasinato solo nella parte finale. Gli ultimi 20 minuti. Il prossimo mi dà l'impressione che sarà incasinato durante quasi tutto il film. Praticamente. Quindi avrò bisogno, come dire, della vostra assistenza. Comunque, giusto per chiarire una volta per tutte cosa è successo in questa parte qua. Qualcuno mi può fare un riassunto così magari evito di, non lo so, capire fischi per fiaschi. Di capire cose strane. Perché io ripeto, quello che ho capito è che Shinji è riuscito a risvegliare l'Evangelion. Dopo che è entrato in modalità Berserk. E grazie a questa cosa, quindi grazie all'unione di Shinji e dell'Evangelion, si è creata una nuova forma di vita. Si è creata una sorta di dio. E questo dio, che è diventato Shinji misto Evangelion, ha esaudito il desiderio di Shinji di salvare Rei. Però ad esempio perché si è creata questa figura strana di Rei gigante? E poi questa cosa anche del third impact, perché si sta verificando? Cioè, quindi quando un umano si fonde con un Evangelion, si crea il third impact? Il terzo è il migliore, anche se... sì, questa cosa l'ho già letta. Lo dicono perché spiegano in modo comprensibile e non lasciano roba criptica. Lo preferisco, se infatti l'ultimo film è più tranquillo e non fanno roba troppo criptica, direi che lo apprezzo. Decisamente lo apprezzo. Perché è entrato in contatto con un angelo. Quindi si verifica quando nasce un dio. Pure voi non mi sembrate troppo, troppo sicuri in merito a sta cosa, però... Vabbè, se mi dite che lo approfondiranno nei prossimi film, insomma, non serve che ovviamente me lo spiegate. Cioè, se non sono cose che servono sapere adesso, aspetto i prossimi film e cercherò di capirlo lì. Detto questo, mi è piaciuto decisamente di più dello scorso, quindi un voto in più se lo merita. E come avevo già detto, le scene Slice of Life sono state bellissime. Mi piacerebbe tanto una serie completa, solo Slice of Life su Evangelion. Penso che abbia molto potenziale come anime... come lo so, come proprio stralci di vita quotidiana. Tutti i personaggi sono interessanti e sarebbe figo. Per il resto, questo è quanto. Anche qua, Shinji, come si è comportato, secondo me si è comportato abbastanza bene. Ha fatto un po' il bambino in certi punti, ma era abbastanza comprensibile. L'hanno quasi costretto a uccidere la sua amica. Quindi, come dire, è normale che abbia un po' scazzato. Quindi Shinji in questo film mi ha decisamente migliorato, molto di più dello scorso. E anche più sicuro di sé, più intraprendente. Meglio, decisamente meglio. E come avevo detto anche prima, anche il padre, Gendo Ikari, lo preferisco rispetto alla serie originale. che ha fatto decisamente un salto in avanti. Ma non è vero che non lo spiegano. Mari non sembra essere una persona normale. Per quello che riesce a fare, muovere lo 0-2. E sappiamo che tutti i children sono scelti dalla sele. Eh, lo so. Effettivamente Mari è un personaggio particolare. Sinceramente non mi verrebbe da dire che mi sembra un personaggio non umano. Se dobbiamo, ecco, parlare di queste cose qua. Non penso che sia un angelo, cose strane. Però, effettivamente, è strana. Nel senso, è una europea, forse russa, non lo so. Però è strano che sappia tutte queste cose riguardanti gli Evangelion e che sia così portata. Ma attualmente non mi verrebbe da dirvi... Cioè, non so bene come configurarlo come personaggio. È particolare, ma finisce là. Caruccia, sì, caruccia. Ma non mi viene da pensare che possa essere una... Non lo so. Un qualcosa tipo quel ragazzo che è un angelo. No, no. Non penso sia una roba troppo strana. Poi, per chiarità, potrei sbagliarmi. Quella figura di Rei nasce nel globulo rosso che Shinji cercava di entrare. Il third impact è causato da Shinji che entra in contatto con l'angelo causando la fine dell'umanità. Una volta salvata si ricompone nella forma di Rei. Ok, quindi questa roba del third impact è stata fermata dall'arrivo del ragazzo, quindi. È stata fermata dall'arrivo di Nagisa. Siamo che si chiama Nagisa. Quindi, ok, in realtà mi è abbastanza chiaro, diciamo, questo film. C'era pure prima una ragazza in chat, non so se c'è ancora Angelica, che diceva che, come dire, i film in generale, tutti questi film sono un po'... Cioè, non ci ha capito molto, perché questi film sono un po' particolari, ma... Ti do ragione su quest'ultima parte. Cioè, se anche il prossimo film è come l'ultima parte che abbiamo avuto adesso, effettivamente è molto strano. Cioè, sfido chiunque a non rimanere un po' colpito da quello che è successo negli ultimi dieci minuti, perché sono tutte e molte cose, avvengono parecchie robe, quindi... Boh, vedremo il terzo film, in base al terzo film lo capirò, effettivamente. Però posso dirvi che fino all'ultima parte qua, fino agli ultimi dieci minuti del film, venti minuti, era tutto chiarissimo. Era tutto fin troppo chiaro, cioè, mi sembrava anche molto più soft rispetto al solito Evangelion, quindi non avevo... Direi che per ora questi rebuilder non hanno nessun problema particolare. Ah, è dalla lancia di Longinus, sì, sì, sì. Eh, gli ha conficcato la lancia. Che poi, tra l'altro, non mi sembrava una lancia, mi sembrava più una spada, però mi sa che può assumere forme diverse. Cioè, no, perché più che altro... Vabbè, comunque sì, dalla lancia, sì, l'ho vista, l'ho vista. Le lanci sono degli artefatti che superano gli etifield e bloccano gli angeli. Come, infatti, come la lancia a due punte rossa che ha bloccato Lilith. Se è Lilith, quell'angelo che stanno tenendo sotto, tipo, nella base. Ma se la lancia di Longinus è così potente, perché nella serie originale nel film non l'hanno usata prima? Bella domanda, bella domanda. Che poi vola il Mark VI, si vede che è di un'altra lega rispetto agli altri Eva. Sì, sì, sì. Quindi, regà, secondo me questo è tutto per quanto riguarda sto film. Non penso ci sia altro da dire, se non che era fatto in maniera proprio magistrale a livello di qualità. Bello per quanto riguarda tutto quello che succede, ripeto, lo sviluppo dei personaggi, le scene, Slice of Life. È tutto figo. Ho una marea di domande. È finito? Regà, ma che vi devo dire? Nel senso... È stato veramente, veramente strano. Per rivederlo non è stato d'aiuto. No, ma ci credo che non è stato d'aiuto, perché qua ci sono una marea di cose che hanno messo. Ma credo che se Misato spiegava a Shinji tutta la situazione per filo e per segno, non sarebbe andato da Rei. Nonostante sia stato un bel film, sinceramente non mi sento. Quindi non so se Shenvi, ecco, grazie che ci sei già, Shenvi. Quindi, sinceramente, nonostante sia stato un bel film, a me non... cioè, io non gli darei mai un... un nove e mezzo, un dieci. Cioè, non mi verrebbe... ma... perché più che altro è stato privo di spiegazioni, strano, confusionario. Non mi ha soddisfatto come film. Cioè, non so voi, ma a me la sensazione di confusione che mi ha lasciato questo finale non è una bellissima sensazione, per quanto sia stato bello tutto quanto. Quindi non mi verrebbe da dare un votone, sinceramente. Fammi ricordare che voto dato agli scorsi, mi pare che già ero arrivato al nove con lo scorso film, però... cioè, sinceramente non... non mi convince molto. Molto più gradevole. Questo qua... ma, ripeto, non solo per le cose che non hanno spiegato, perché se si fossero limitati a non spiegare determinate cose che poi spiegheranno nel prossimo film, a me andrebbe bene. Ma perché i personaggi si sono comportati in una maniera che non sta né in cielo né in terra. Tutti i personaggi... Ok che Rei era un altro clone, quindi lasciamo stare Rei, però... cioè, non lo so, Shinji che non fa domande, nessuno che gli spiega niente, gli dicono di fare cose e lui alcune volte le fa, alcune volte no, poi di nuovo la cosa che non vuole salire sulleva... Non lo so, a me sinceramente non è piaciuto così tanto questo film. Non è piaciuto quanto mi sarei aspettato. Ha avuto delle bellissime sequenze di combattimenti, ha avuto una bellissima regia all'inizio con queste inquadrature in prima persona molto belle, quindi la qualità non si discute, però a livello di storia e di avvenimenti... Ma sinceramente, parliamoci chiaro, ecco, un'altra cosa che a me ha deluso molto in questo film, ma raga, Nagisa! O come si chiamava Nagisa lui? Ma che merda di personaggio è Nagisa? Cioè, io mi aspettavo che gli avrebbero dato spazio in questi rebuild. Cioè, io mi aspettavo che Nagisa, in questi rebuild, avrebbe fatto qualcosa a differenza della serie, perché sembrava comunque un personaggio con del potenziale, e ho detto, ok, nella serie non è stato sfruttato, l'hanno fatto crepare subito, nel rebuild farà qualcosa. Ma che merda è sto personaggio? È un sbocco totà, cioè, non ha fatto niente, è morto. Ok che ha detto che ci rivedremo, quindi magari nel prossimo film ritornerà in qualche modo, ma, torca puttana, cioè, a parte la cosa del pianoforte, che ci sono state delle sequenze molto belle con Shinji, e a parte cercare di convincere Shinji a fare quello che voleva, non ha fatto niente, in questa... Cioè, quando c'è stato il momento di agire, quando le cose hanno iniziato a farsi strane, è rimasto fermo tutto il tempo. Cioè, quello che è successo letteralmente in questa mezz'ora finale di film è stato lui che, c'è qualcosa che non va, non capisco, non va, Shinji non lo fa... Poi, non è che lo diceva, Shinji non farlo, non devi farlo. Shinji, non farlo. Shinji, non devi farlo. Così. Cioè, porca puttana, se la situazione è veramente critica come Benz, c'era Shinji che gli diceva, Kaoru, cosa devo fare? Non farlo. Cosa stava facendo? Io non capisco. E poi, dopo che, giustamente, Shinji prende le lance, perché non sapeva che cazzo fare, Kaoru fino a due secondi prima gli aveva detto bisogna prendere queste lance e tutto sarà risolto. Dopo che prende le lance, Kaoru, eh, non posso fare altro, purtroppo è andata così, ci rivedremo. Pum, esplode. Cioè, sinceramente, vogliamo parlare veramente del ruolo che ha avuto Kaoru. Che io mi aspettavo che, ripeto, in questo film gli avrebbero dato un minimo di spessore, un minimo di importanza in più. Cioè, sembra, vi giuro, raga, un meme. Kaoru mi sembra un personaggio meme. Sarà che non ho capito io qualcosa, ovviamente, che magari verrà spiegato nel prossimo film, ma da come l'ho percepita io, cioè, non lo so, veramente. Ha solo impedito l'apocalisse. No, 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 assolutamente. Cioè, quello che ha fatto Kaoru in questa parte finale è stato suicidarsi, conficcandosi pure le lance, e ha impedito il forte impact. Però è un personaggio dal quale mi aspettavo di più, ma non tanto a livello di cosa fa, ma a livello di approfondimento. Cioè, letteralmente quanto è durato in questo film? Avremmo avuto, boh, 20 minuti di screen time di Kaoru? Forse meno? Un quarto d'ora di screen time? Cioè, è un personaggio che vediamo fin dalla fine del primo rebuild. È dalla fine del primo rebuild che noi vediamo Kaoru sulla luna. E io dicevo, ok, è finito il primo rebuild, era solamente un recap, arriverà nel secondo rebuild. Nel secondo rebuild non si è più visto, è arrivato alla fine, e ha lanciato la lancia, manco ho capito cosa è successo alla fine del secondo rebuild, e non si è visto. Dico che vabbè dai, il terzo rebuild sarà incentrato tutto su Kaoru. E poi fanno questo. Ha avuto poco screen time, e a parte salvare il mondo, che per carità gliene do atto, è stato un personaggio che a me non è piaciuto manco per il cazzo. Ma proprio manco per il cazzo mi è piaciuto. Quindi, forse ripeto, l'avrò percepito male io, ma non lo so. Porto pure che avevano loro due cista, tutta la parte iniziale è abbastanza comprensibile, loro hanno cercato di recuperare Shinji, che in realtà non so effettivamente Shinji dove, perché si trovava lì. Cioè sono passati 14 anni, in che modo? Perché qua, sembrava semplicemente che avessero fermato il suo Evangelion, quindi, com'è possibile che qua lo vediamo che si trova nello spazio, e loro lo cercano di recuperare? Quindi, questa cosa penso che ce la spiegheranno. Quindi, oltre a questo, dobbiamo, allora, facendo un resoconto, dobbiamo sapere, uno, cosa ha fatto Shinji in questi 14 anni e come ci è finito nello spazio. Due, perché non gli hanno, vabbè, in realtà perché non gli hanno voluto dire niente, potrebbe essere come dite voi, perché non volevano che causasse il forte impact, perché pensavano che se sapeva la verità, secondo me comunque è una puttanata, però vabbè, lasciamolo stare. Poi, dovremmo capire cosa vuole fare Gendo Ikari, che attualmente è un pochino un dilemma. Non ho nemmeno capito bene la sele, come mai adesso ha deciso di collaborare con Ikari, considerando che nella serie originale erano agli antipodi. Cioè mi ricordo nella serie originale che Gendo Ikari tradisce la sele e loro, di tutta risposta, gli mandano contro un esercito che se vi ricordate gli entra all'interno della Nerve e loro devono far esplodere tutto, succede un bordello, quindi non ho capito perché in quest'altro film la sele è d'accordo con il piano di Ikari. Tra l'altro c'è anche questa fotografia che voi mi dite chi è il personaggio di destra. Regà, il personaggio di destra, solamente per il fatto degli occhiali e un po' per la capigliatura, potrebbe essere la madre di Mina, la madre dell'americana, che è un personaggio, anche Mina, si chiama Mina mi pare. È un personaggio strano, non la capisco. Cioè è un personaggio che, più che altro il problema attualmente è che io non so cosa vogliono. Io non so cosa vuole fare Gendo Ikari, non so cosa vuole fare, cosa voleva fare Kaoru, non so, cioè vuol dire, forse Kaoru voleva semplicemente ricreare l'intera umanità, ma comunque non è che te lo rende troppo palese. Non so cosa vuole fare Stamina, cioè che ruolo ha all'interno della serie. Ce l'hanno presentata nello scorso film dicendo semplicemente che è un pilota di Evangelion che viene da altri, dall'America, dalla Russia, o dove cazzo è, ma non si è ben capito cosa... Cioè, non lo so, semplicemente è un personaggio che mi aspettavo avesse un po' più di spazio. E poi, parlando anche di altri personaggi, ci sta Asuka che è fastidiosissima. Cioè, Rei è diventata una mebba. Prima, nello scorso film, mi stava iniziando a piacere parecchio e adesso è morta, probabilmente non ho capito semplicemente questo qua, penso sia un clone e quindi non esiste più Rei. Asuka è fastidiosissima, una roba veramente assurda, cioè insopportabile. Mi piace molto di design, mi piace un po' a livello di carattere per il fatto che è tsundere, ma è una roba veramente troppo insopportabile. E poi c'è Shinji che purtroppo, ma che deve fare Shinji? Nel senso... Poi in realtà mi ha fatto pure ridere Kaoru che qua gli ha detto le frasi poetiche strane che Shinji gli ha fatto Kaoru, cosa devo fare? Dammi una spiegazione! Gli ha tirato fuori due putt... Gli ha detto tre puttanate che non... Non ci avrà capito un cazzo Shinji. Qua vabbè. No, volevo vedere... Volevo vedere più che altro Shinji che piange. Ecco, anche il personaggio di Shinji più... Che deve fare, poveraccio? Viene sballottato da una situazione all'altra. Tutti che gli dicono sali sulleva, non salire sulleva. Fai questo, non fare questo. Vai di qua, non andare di qua. Cioè, poverino! In realtà l'unico personaggio che attualmente non mi dispiace, oltre forse al padre di Shinji che dipenderà dal piano che ha, però per adesso comunque il padre sembra un figaccione al suo perché. E Shinji non mi dispiace semplicemente perché provo pietà per lui. Provo pietà per lui perché viene sballottolato di qua e di là in balia degli eventi, non può fare niente, tutti lo odiano e è la causa dei mali del mondo, una sorta di... Non lo so... Gesù Cristo deve essere sacrificato per... Non lo so, per farsi carico del peso di tutte le colpe dell'umanità. Cioè, non... Poverino Shinji che vi devo dire. Quindi... Non lo so, questo è quello che penso fino ad ora di Evangelion. Mi aspettavo... Non lo so, il secondo film stava andando tanto bene, questo terzo film secondo me a livello di sviluppo dei personaggi non... Cioè, è rimasto fermo proprio, non... Cioè, anzi, semplicemente è stato confusionario. Quindi sì, purtroppo vi devo dire non... Comunque leggo un po' la chat. La razza degli Adams al plurale indica la razza degli angeli primordiali come Adam e Lilith che danno origine agli angeli e allieva e quando i due esemplari i cloni di Adam e i cloni di Lilith si uniscono si genera di nuovo la razza ancestrale che è praticamente un dio. Mari, best personaggio. Mari è un personaggio particolare, canta sempre quando combatte, dice sempre miau, cioè un personaggio particolare... Il fatto è che non è approfondito. Cioè, io sinceramente mi aspettavo così come hanno fatto nella serie... Ad esempio, un'altra cosa, scusatemi, ma... Asuka non è stata approfondita. Ad esempio, cioè Asuka mi ricordo che nella serie originale avevano spiegato il suo passato. Quindi ti avevano dato comunque un contesto. Quindi o, come dite voi, probabilmente non hanno rispiegato queste cose perché questo è come da considerarsi un sequel di Evangelion, quindi non c'è... cioè, non c'è bisogno di approfondire di nuovo i personaggi perché teoricamente già dovresti saperlo. Però, non lo so, mi sembra che manchi un po' di caratterizzazione, un po' di sviluppo, sia di lei... però vabbè, Asuka si può pure mettere da parte perché, ripeto, magari è come vi ho detto appena adesso, è un sequel, quindi dovremmo già saperlo. Però questa... questa Mari, anche Mari, non... speravo in un approfondimento migliore, non sappiamo chi è, cioè, non sappiamo cosa fa la sua famiglia, perché è diventata un pilota, e teoricamente è uno dei personaggi principali. Kaoru idem, Kaoru è stata la stessa cosa che è successa nella serie principale, ovvero, si è presentato, noi ci chiedevamo uh, personaggio interessante, chissà che cazzo è sto Kaoru, e poi, ups, sono un angelo, ed è morto. Qua è successa la stessa cosa. Personaggio interessante, bel rapporto con Shinji, bella ship poco etero, tutto quello che volete, e poi, ups, sono un angelo, mi suicido. E... boh, cioè... non lo so. Non mi è piaciuto questo film. Non mi è piaciuto come pensavo che mi sarebbe piaciuto, insomma, non so come spiegarvelo, mi aspettavo di più. Considerando tutte queste cose, non gli darò un 9. Non gli darò un 9. assolutamente no. Cioè, a sto punto, regà, gli do... Che cazzo gli posso dare? Un 8,5? Cioè, non... Più che altro, il primo film, io manco gli avrei dovuto dare il voto, perché è letteralmente un... un recap. Guardate, io veramente gli do 8,5 solamente perché sono fiducioso nel finale. Sono fiducioso che nel finale alcune di queste cose verranno... alcuni di questi dubbi che ho e di robe verranno colmate. Comunque, se volete votare, c'è il link in chat, ve lo... ve lo ricondivido, per caso vogliate. Qui si scopre il difetto dei rebuild. Il fanservice preponderante, a volte ammetto che il manierismo è la presenza di far vedere cose fighe, sovrasta la scrittura in sé e la qualità. Per fortuna nel quarto film migliora. Ah, ok, quindi ripeto, non è una cosa che ho notato solo io. Cioè, ci sono anche altri che si sono lamentati di questa roba qua, perché io attualmente finisco... Ecco, se adesso non ci fosse il film finale, io rimarrei molto amareggiato da questo terzo film qua, perché mi rendo conto che ripensandoci, tornando indietro, in questi tre film che ho visto, che tre film non sono pochi, tre film da un'ora e mezza l'uno, pure di più, non siamo al livello che pensavo, cioè non siamo a quel livello che tutti mi dicevano i build sono stupendi, sono clamorosi, mi sembra che manchi qualcosa. Detto questo, sono comunque belli, assolutamente, solo che, boh, mi aspettavo di più, forse ripeto, domani con l'ultimo film mi schiarirò un attimo le idee.